Sono stati 65 i casi di conferimento regolare dei rifiuti da parte dei cittadini nella settimana che va dal 6 al 14 luglio scorsi, con 21 episodi irregolari. Dati che emergono dai controlli della Polizia Municipale, i cui esiti sono stati comunicati alla Dasti, l'azienda che svolge il servizio per la raccolta differenziata a Caltanissetta. Un dato ritenuto positivo dall'azienda in quanto premia il piano di controllo della raccolta dei rifiuti porta a porta, avviato lo scorso 14 marzo, quando il livello di microdiscariche abusive e l'errato conferimento avevano indotto l'amministrazione comunale, in collaborazione con la stessa Dasti, a cercare dei rimedi. Gli sforzi compiuti, ha spiegato la Dasti, sono soprattutto dei cittadini virtuosi che hanno capito che per avere una città decorosa è necessario rispettare le regole ambientali. Gli agenti della Polizia Municipale di Caltanissetta, con il supporto degli operatori Dasti, hanno eseguito gli accertamenti in Viale Stefano Candura, nel quartiere Angeli e nelle vie Bissolati, Piave, San Giovanni Bosco, San Giuliano, Paladini, Dei Giardini, Dalla Chiesa, Gianmaria, Guglio, Lipari, Solferino, Strazzeri, Marocco, Eber, Calabria, Rosso di San Secondo, Libertà e Turati. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.